Erano specializzati indreati predatori ai danni di abitazioni e ville di campagna, ma non risparmiavano neanche cantieri edili senza sorveglianza e auto in sosta. Sono i tre componenti di un nucleo familiare di Manfredonia, tra i quali anche una donna, arrestati dalla polizia al termine di lunghe indagini e numerosi appostamenti. La banda si sarebbe resa responsabile di una serie innumerevole di furti, compiuti in prevalenza tra i comuni di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. L'obiettivo principale dei malviventi era inusuale, ma comunque di grande valore. La polizia ha infatti sequestrato un vero e proprio tesoro fatto di attrezzature per lavori edili, tra pani professionali, smerigliatori, motoseghe, ma anche presse da banco, gruppi elettrogeni e martelli pneumatici. L'area furtiva, del valore di oltre 100.000 euro, era custodita in alcuni garage pertinenze di appartamenti periferici di Manfredonia di proprietà o in uso agli indagati. Tra la merce sequestrata, anche attrezzi rubati nell'ottobre 2014 al comune di Manfredonia ad alcuni dipendenti dell'ufficio manutenzioni. Le indagini della polizia proseguiranno per identificare altri possibili complici della banda e risalire al resto della refurtiva che potrebbe essere custodito in località non ancora individuate dalle forze dell'ordine.